In diretta, in questo momento della formazione dell'ACF Como che sta giocando qui contro il Caprera, la comunale di Cantù, il parziale, lo diciamo a chi ci sta guardando anche sulle immagini di Facebook, è di 5 a 0 a favore dell'ACF Como con la maglia azzurra, un breve aggiornamento in questo istante dal campo comunale di Cantù, quindi dominio assolutamente dell'ACF Como alla femminile che sta per chiudere il primo tempo in vantaggio per 5 reti a 0, queste sono alcune delle azioni, delle manovre delle ragazze che oggi stanno giocando a briglia sciolta, 3 gol della brasiliana De Paula, 2 gol di Ferrario, ancora Como al limite dell'aria, Vediamo se riusciamo a vedere anche qualche altro gol da qui alla fine di questo primo tempo, ripeto, alla comunale di Cantù, un caro saluto anche agli amici del web, l'arbitro fischia in questo istante, le squadre vanno al riposo, salutiamo il nostro amico Samuele, è sempre attivissimo, E allora vi ricordo anche a voi amici che ci seguite che qui da Cantù la partita è davvero dominata dalla formazione azzurra, è finito il primo tempo, come vedete le squadre stanno andando in questo momento negli spogliatoi, il parziale è di 5 reti a 0 per l'ACF Como femminile contro il Caprera, 3 reti le assegnate la brasiliana De Paula, 2 Ferrari ed è tutto qui.